Con Luca Bernardini, capitano del Rollorollo, è qui il capitano a festeggiare questa vittoria in Europa League. Com'è andata questa partita? È stata una partita molto tirata, poi eravamo un po' superstiziosi perché era la terza finale consecutiva e due l'abbiamo persa e ho detto speriamo che stasera la cosa va di meglio. Il Rollorollo stasera ha sfatato un tabù, mettendo in campo quali qualità? Cosa ha avuto di più degli avversari? Grinta, cuore e rabbia, voglia di vincere. Adesso da cosa si riparte dopo questa vittoria? Dalle ferie, basta, per quest'anno abbiamo dato.